Sabato 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per essere uomo non occorre essere un prevaricatore, non occorre imporre la propria forza fisica o ancora peggio psicologica. Ogni donna ha il diritto di essere libera nelle proprie scelte, senza per questo dover subire comportamenti violenti e soffrusi quotidiani da parte di uomini padroni. Reagite a questi soffrusi, liberatevi da chi calpesta la vostra anima e non rispetta il vostro corpo. Diciamo anche noi, stop alla violenza!